Io non sono qui a cercare una poltroncina per un amico. Cara Barbara. No, secondo me ha fatto una voca. Allora sai ho un guacquara qua. E' colpa anche questa di conto. Prego applausi. Eeeh, possiede sia. Noi abbiamo un pool di esperti. Ma non vuole che si mi piace. Lei si è portato a casa 60 milioni di dollari. Good morning Vietnam! Cari amici di Primo Canale, benvenuti alla dodicesima puntata di Good Morning Vietnam, speciale natalizio. Ma chi se ne frega? Caro Babbo Natale. O Gesù Bambino. O chi per esso. Caro chi per esso. Per quest'anno ti chiedo un solo regalo. Ti prego portami la memoria più breve che esiste. Io voglio dimenticare. Come tutti quelli che si dimenticano delle cose che hanno sentito anche poco tempo prima. In che senso? Quelli che fino all'anno scorso dicevano Il Natale è una festa commerciale. Che palle, mi tocca andare dai miei suoceri. Ah guarda, io vorrei andare su un'isola deserta da solo dal 22 dicembre al 7 gennaio. È tutto un complotto di Bill Gates e Soros. Il Natale non esiste. E ora rompono con le cene, i pranzoni, la sacralità del Natale e la famiglia. Voglio non ricordarmi più di quelli che dicevano Michael P.D. Voglio entusiasmarmi per i discorsi di Salvini perché mi sono dimenticato dei cori contro i napoletani. Voglio dimenticare di quando Renzi... Voglio dimenticarmi di Renzi. Voglio dimenticare i cuori, gli arcobaleni e gli andrà tutto bene. Voglio dimenticare tutti i virologi che hanno più follower di Angela Damondello. E a tal proposito mi voglio dimenticare di vivere in un paese che fa di Angela Damondello una porta bandiera. Voglio che ogni cosa mi appaia nuova e bellissima. Voglio anch'io gioire perché qualcuno ha già progettato gazebo, tendoni e primule per un vaccino che ancora deve arrivare. Mi voglio dimenticare. Come ci siamo dimenticati dei pescatori di Mazzara del Vallo, di Patrick Zaki e di Giulio Regeni. Voglio dimenticare 65.000 morti e pretendere di andare a sciare, anche se non l'ho mai fatto. In un silenzio orrendo, a notte fonda, fantozzi a pelle di leone. Voglio fare la fila per l'ultimo modello di iPhone, senza mascherina, perché me la sono dimenticata. C'ho il certificato medico e comunque sono del pensiero che la mascherina non serve assolutamente a nulla. Assolutamente a nulla. Voglio vivere così, dimenticando il passato, non capendo nulla del presente e non riuscendo a vedere il futuro. Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me! Probabilmente non avrò mai questo regalo, però poco male, perché tutta questa situazione me ne ha già portato un altro. La consapevolezza che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare. Vi auguro con tutto il cuore la stessa cosa. Buon Natale.